Parigi, la Francia, patria dei grandi ristoranti e dei cuochi più famosi del mondo. Ho sempre sognato di essere uno di loro. C'è un solo piccolo problema. Quello non sono io. Io sono questo. Sono un topo. E mi sta tutto bene? Tranne una cosa. Non voglio parlare della coda. Ma che ne dite delle mie piccole orecchie coperte di morbida pelurie? Ho sempre pensato che lavorando solo e con un po' di fortuna, prima o poi il mio talento sarebbe stato scoperto. Corratto! Portalo via da qui, sguatterò! Vai! Non guardarmi in questo modo. Sei tu che giocavi al creativo con tutte quelle spezie. Hai annuito? Tu riesci a capirmi? Io non so cucinare, ma tu invece sì, vero? Dai, non fare il modesto. Sei un topastro per la miseria. Ehi, ciao. Che sei? Vedi, una volta superata l'istintiva repulsione, si apre tutto un mondo di possibilità alimentari. Devo proprio insegnarti come si mangia. Non molto. Aspetta, tu? Leggi? Non eccessivamente. Oh, cavolo. E papà lo sa. Possiamo diventare i più grandi chef di tutta Parigi? Eh, potrebbe essere più difficile del previsto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.